Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova video lezione in cui vi svelerò alcuni trucchi che vi permetteranno di migliorare la vostra pittura ma soprattutto di divertirvi. E lo faremo dipingendo insieme passaggio per passaggio questo esercizio adatto anche a chi non ha mai dipinto. Potrebbe essere l'occasione per iniziare e per divertirvi con questa tecnica. Questo è il risultato finito e queste sono alcune prove che ho fatto. Poi ho provato i colori freddi, ho provato i colori caldi e alla fine sono arrivato al colore dello sfondo. Alla fine di questo tutorial vi farò vedere un momento di vita quotidiana d'artista. Prima di iniziare però a grande richiesta, visto che in tanti me l'avete chiesto, mi avete scritto per avere informazioni, sono finalmente aperte le iscrizioni per i prossimi corsi online con tematiche inedite e una serie di contenuti all'interno del pacchetto del corso. In programma c'è un corso di paesaggio urbano, un corso di disegno, un corso di acquarello contemporaneo, un corso dedicato alle regole base dell'acquarello e infine un corso dedicato all'acquarello classico. Potete prenotare la vostra iscrizione e avere maggiori informazioni nel link che vi lascio qua sotto. Ma torniamo al nostro tutorial. Che materiali ci servono per dipingere insieme? Come colori ho utilizzato un viola, un arancione, un rosso quina cridone, un magenta, un giallo di nickel, un blu windsor, un blu altremare, un nero avorio, un verde acqua e per concludere un bianco di zinco che in realtà è una tempera. Per il disegno una matita ben temperata, una gomma pane e una gomma di precisione. Come pennelli ho utilizzato tre pennelli, una punta tonda e due piatti, mentre il foglio di carta l'ho preso da questo album della Winsor & Newton da 300 grammi. Si tratta di un foglio grana fine naturalmente 100% cotone. Vi ricordo che questa lezione la trovate in versione integrale all'interno di Patreon dove c'è la mia scuola online di acquirello e disegno e soprattutto vi ricordo che se volete scaricare l'immagine per copiarla mentre eseguite questo esercizio vi basta iscrivervi alla mia newsletter. Anche di questo vi lascio il link qua sotto. E ora iniziamo! Per prima cosa naturalmente ho affilato le matite in modo da ottenere un segno pulito e preciso. Dopodiché ho prima realizzato il disegno di costruzione, quindi quello più leggero che abbiamo visto in tanti altri tutorial e sulla base di questo disegno di costruzione che rimane trasparente e abbozzato, ho ridefinito il disegno definitivo utilizzando un segno particolarmente pulito e preciso in modo da avere sul foglio e sul disegno tutti gli elementi che poi voglio rappresentare e riportare in pittura. Una volta poi terminato il disegno dispongo tutti i colori in tavolozza. Io qui sto utilizzando una tavolozza classica ma naturalmente va benissimo anche una qualsiasi altra tavolozza o una serie di piattini in ceramica. A prescindere dalla tavolozza comunque preparo il primo colore utilizzando i rossi e l'arancione e devo ottenere un arancione particolarmente deciso e brillante che stendo su tutte le fette di melone. Una volta poi steso il colore col pennellino tondo vado a sfumare lungo il bordo più chiaro del frutto. Lo stesso identico lavoro lo faremo poi sia con i rossi delle ciliegie che con i verdi della buccia delle fette appunto di melone. E' chiaro che qui non stiamo parlando di una tecnica classica. I colori sono molto brillanti molto accesi le velature non sono tutto sommato tantissime e questo è quello che potremmo definire l'acquarello contemporaneo quindi un acquarello appunto molto brillante molto particolare. E' esattamente quello che vedremo nel corso dedicato a questa tematica quindi appunto il corso di acquarello contemporaneo. Naturalmente lavoreremo con soggetti inediti adatti proprio a questo tipo di ricerca a questo tipo di luci e a questo tipo di colori. Intanto una volta asciutta la prima velatura passo immediatamente ai colori più decisi quindi sulla base di arancione più chiaro che ho dato a tutta la fetta adesso intervengo con un arancione più tendente al rosso più denso più coprente quindi con meno acqua e rafforzo il colore nei punti in cui effettivamente risulta più deciso più forte. Nella lezione precedente nel tutorial precedente abbiamo visto lavorando con tre fette di anguria la resa dei mezzitoni o meglio la gestione dei mezzitoni. Ecco qui la situazione è molto molto simile anche se in questo esercizio la resa della luce in realtà è completamente differente dal tutorial precedente ma questo lo vediamo alla fine. Intanto rafforziamo ancora il colore siamo alla terza velatura colore ancora più denso ancora più deciso per dare sempre più tridimensionalità al nostro soggetto. Chiaramente tutto quello che adesso stiamo facendo sulle tre fette di melone dovremo poi farlo anche sulle ciliegie. Di volta in volta gioco col pennello secco o con le sfumature per ottenere gli effetti che vedo in fotografia quindi cerco comunque di dare sia colore e tridimensionalità che anche definizione e dettaglio sfruttando sia il pennello a secco che la texture della carta. Fatto questo appunto intervengo poi con un rosso più deciso un po più scuro magari con una punta di blu più tendente al viola o con una punta di viola e poi torno anche sullo stesso verde che ho semplicemente rafforzato quindi parliamo dello stesso colore di prima ma con meno acqua. Lo stesso identico verde poi lo uso anche per le ciliegie. Questa parte asciuga abbastanza in fretta quindi torno immediatamente per suggerire le ombre sul picciolo della ciliegia penso si chiami picciolo e do qualche tocco di marrone alla parte più alta. dopodiché tornando ancora in tavolozza creo un rosso viola anzi quasi un viola mediamente denso comunque abbastanza coprente e ritorno su questi frutti per dare ancora profondità e tridimensionalità dove serve utilizzo dei colori quasi tendenti al nero. Chiaramente questo ce lo dice la fotografia quindi di volta in volta dobbiamo valutare se effettivamente gli può servire uno scuro deciso oppure no. Ogni volta che serve comunque sfumo sempre il colore. Colore più scuro più tendente al marrone anche per le fette di melone e comunque ho fatto pausa mentre stavo doppiando questo video sono andato a vedere perché ero curioso non si chiamano piccioli con i rametti delle ciliegie ma si chiamano peduncoli. Non l'avevo mai sentito comunque abbiamo scoperto una cosa nuova. A questo punto possiamo considerare finita la prima parte del nostro esercizio quindi cambiamo l'acqua, barattoli puliti, una nuova tavolozza o rilavate quella che avete già utilizzato e utilizziamo adesso il bianco di zinco e il viola. Li mischiamo insieme con una quantità abbondante di bianco e una puntina di viola e otteniamo questo colore, questo violetto molto molto chiaro. Ecco questo è il primo trucco che voglio mostrarvi. Non si tratta proprio di acquarello perché stiamo utilizzando il bianco di zinco quindi potremmo semplicemente definire questa tecnica guazzo forse addirittura tecnica mista. In realtà però la caratteristica a prescindere dalla tecnica è che otteniamo in questo modo un colore bianco ma coprente quindi un colore chiaro ma coprente. Noi sappiamo che con l'acquarello il colore chiaro lo possiamo ottenere molto semplicemente anzi si ottiene molto semplicemente aggiungendo dell'acqua ai colori desiderati. Ecco in questo caso invece dell'acqua abbiamo utilizzato il bianco ottenendo quindi una tempera quasi in qualche modo una tempera che risulta appunto molto coprente che quindi in qualche modo nasconde la texture della carta cosa che invece non avrebbe lavorando con una velatura abbondante di molta acqua e in qualche modo limita gli effetti delle macchie dell'acquarello ma soprattutto da un effetto di luce molto molto particolare in alcuni casi anche più efficace del bianco puro della carta. Una volta asciutta poi la velatura appena data creo in tavolozza un questo colore grigio scuro partendo sempre dal bianco dal viola e poi aggiungendo al colore una punta di nero avorio. Questo colore è più vicino alla tempera in realtà che all'acquarello e come tempera lo gestisco. Il passaggio che sto facendo adesso non è proprio un passaggio di bagnato su bagnato il colore è leggermente umido aggiungo del nero e lo sfumo direttamente sul foglio ma seguendo appunto quello che è un po' un principio della tecnica della tempera che magari avremo modo di vedere insieme, di approfondire chi lo sa. Comunque questo colore lo utilizzo per tutte le ombre portate e gestisco le ombre con questo segno particolarmente netto, particolarmente deciso. Vedremo poi come sfumarlo e come ammorbidirlo. Prima però vediamo un piccolo trucco per ridare luce nei punti di luce massima che magari abbiamo perso nelle altre velature. Oppure se vi capita di aver eseguito un dipinto non troppo luminoso che non vi convince potete usare questo trucco per dargli ancora più luce e ancora più brillantezza. Anche se nell'acquarello i bianchi massimi vengono tenuti lasciando il foglio scoperto quindi si danno le velature su tutti i punti tranne che sui punti di luce massima che appunto rimangono completamente scoperti, completamente bianchi. Ecco oggi la luce la diamo in maniera leggermente differente e cioè sfruttando il bianco puro della tempera. Quindi non avendo lasciato chiari i punti massimi interveniamo con dei piccoli tocchi, dei puntini di bianco puro che servono a dare il massimo della luminosità. Sembrerà strano ma questi piccoli tocchi sono quelli che effettivamente poi ridanno il massimo della profondità, il massimo della luminosità. Guardate come cambia per esempio questa parte della ciliegia nel momento in cui posizioniamo il bianco. È una piccola parte, è una piccola porzione ma in realtà restituisce tutta la tridimensionalità al nostro soggetto. Questo perché fino a questo punto non abbiamo effettivamente tenuto conto della luce massima che possiamo comunque aggiungere a piccoli tocchi leggermente sfumati nella parte finale del nostro dipinto. Un suggerimento per completare questo trucco è quello di utilizzare il colore praticamente puro quindi senza diluirlo con acqua o comunque con pochissimi in modo che rimanga bello luminoso, molto chiaro. Arriviamo adesso all'ultimo trucco, secondo me il più divertente e questo trucco è forse solo per i più coraggiosi oppure per quelli che vogliono semplicemente divertirsi con l'acqua e con i colori. Dopo aver bagnato tutto il dipinto con lo spruzzino appunto preparo in tavolozza un colore nero, nero grigio, abbastanza scuro e intervengo direttamente sul foglio coprendo sia la superficie del soggetto in ombra che l'ombra portata. Una delle caratteristiche della tempera è che si riscioglie se interveniamo poi con acqua e passiamo col pennello. Sfrutto questa caratteristica della tecnica proprio per ammorbidire le ombre che in precedenza ho lasciato un po' troppo decise, un po' troppo marcate e mi diverto a questo punto a creare macchie, sfumature, tocchi di colore, colature, insomma mi lascio un po' andare a qualcosa di meno tecnico e controllato e un po' più libero, un po' più divertente. Con gli sfondi come avrete notato altre volte lo faccio molto spesso, magari un po' meno sul soggetto. Però ecco l'invito è per voi quello di, così come sto facendo io, buttarvi, divertirvi e non preoccuparvi troppo del risultato. Ora come promesso ecco una scena di vita quotidiana d'artista. Lei è Maya, ha 11 anni e come vedete ancora non è stanca e questa mattina è venuta con me in studio a registrare questo tutorial che vi ho appena mostrato. Quindi da me e da Maya buon divertimento, buon acquerello, buona pittura e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!